Quando si inizia a praticare lo yoga facciale spesso accade che si inizia a notare delle assimetrie sul viso, ovvero si inizia a notare che una parte del viso è più forte rispetto all'altra. Questo non succede a tutte le persone ma può capitare spesso. Cosa fare se anche tu dovessi notare che un lato del viso è più forte rispetto all'altro? Beh, devi fare questo. Tu fai l'esercizio come va fatto ma concentrati sul lato debole. Ti faccio un esempio, se l'esercizio richiede di sollevare entrambe le guance e noti che la guancia sinistra è più debole, concentrati col pensiero sulla guancia sinistra e immagina proprio come se volessi sollevare solo la guancia sinistra. Logicamente la destra sta anche su. In questo modo ti assicuri di allenare entrambi i lati ed eviti di tonificare la parte già forte e lasciare indietro quella debole. Ciao!